E' in piazza! Dottore? Che cosa ha? Non lo so, non mi sento molto bene. Lo sta bene? Allora, vediamo la lastra. Mi dica, mi dica, ma è tanto grave? Mi sa che, di sì, lei sta molto male. Eccola, ma come fa a dirlo che la lastra è a rovescio? Ah, ah, scusi, vabbè. Festa in piazza, bentornati, sempre quelli di prima, eh. Peccato che non cambiano mai. Ma comunque, anche così dice che lei sta veramente male. Sì, c'è un dolore che parte qui, finisce là, poi fa il giro, torna su. Cosa devo fare? Dobbiamo parlare con degli specialisti, eh. Ma con chi? Vanna Marchi, chi? No, ma quelli buoni, giusti, ce li abbiamo qui a festa in piazza. Ah sì, c'è qualcuno che vi può dare una mano? Tanti, ce ne sono dieci. Mi sento già meglio, ma che bello. Tipo, che cosa? Una bella pastiglia, una supposta gigante, una flebo di 24 ore, no? No, no, la pastiglia, perché c'è il gruppo sanitario, vabbè, e dei son salsa, gli argomasti. Mi piace, bello, bello, quindi un gruppo sanitario divertente. Sì, con la pastiglia, la pastiglia proprio. La pastiglia è appunto il prossimo spettacolo teatrale e danzerino. Lei ride evidentemente per la supposta, è particolarmente divertente, interpretata dagli agnevi. dottori, inferniere e pazienti che sono Mario Benedetta, Mori e Selena, Giovanni e Barbara, Lorenzo e Sabina, Mimmo e Giussi. Eccoli! Chiamate il 118! Vai! I cammini ogni notte, i cammini spadiano, e non venga mai sona, non giuda mai l'occhio e non beva il caffè. Fa da goc che c'è da me, fa da goc che c'è da me. Una persiana che es basa, non l'ambiona che luce, è un'ombriaca che ticia costant da una porta, ma era luce. Da tre mesi non dorme più, La bocchina che ticia costant da una porta, ma è un'ombra che c'è da me. Mimmi da la bacchina, Mimmi da la bacchina, senta me, Fa da dormire, fa da me, fa da il mio dolce amor. Mimmi da la bacchina, Mimmi da la bacchina, senta me, Ma mi fa senti come un gran fascia, E mi nutri a il cuore. Vinte e patrine, tutte e farmacisto, La vecchia camomilla ha dato il posto. Alle palline, grigero, fosfato, Bromotelle, visionato, grammi 003. Vieni ad una bacchina, senta me. Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.